Sofficette Citterio, le prime nate soffici. Baby vuol cambiare il mondo. Era l'estate del 1963, la musica stava cambiando, i giovani stavano cambiando. Lo sai tenere un segreto? Anche Baby stava cambiando. Tu pretendi da me delle cose assurde! Un'estate davvero indimenticabile. Qual è il tuo vero nome? Patrick Swayze, Jennifer Grey. Dirty Dancing, mercoledì 20.45, Italia 1. Ho fatto una scelta pura come il latte. Nuovo Nivea Deolatte Deodorante, perché la sua formulazione in latte protegge la mia pelle tutto il giorno, efficacemente e senza irritare. Nuovo Nivea Deolatte Deodorante, un senso di purezza sulla pelle. Materia il giorno, via un giorno, sul n'eserano. È l'eserano! Questa è la sua perte del giorno, non riesce. Questa è l'eserano! È l'eserano. Questa è la tua혼. Capelli Giulitano Ecco Frutti's di Garnier Il primo shampoo fortificante al concentrato attivo di frutti È dimostrato Il concentrato di vitamine e acidi di frutti Rende i capelli due volte più forti Veramente più brillanti I capelli brillano con tutta la loro forza Shampoo fortificante Frutti's Garantito nel laboratoire Garnier E' speciale il mattino di Oro Saiba La sua ricetta semplice All'energia della farina di grano Unita con equilibrio allo zucchero E alla leggerizza del latte scremato Per dare benessere e vitalità alla tua mattina Mordi la cosa giusta Mordi Oro Saiba Dolori mestruali Il sollievo in un momento Moment 200 Granulare solubile Nella confezione rosa in bustine E' un medicinale che può avere controindicazioni ed effetti collaterali Leggere attentamente il foro illustrativo Non somministrare sotto i 12 anni Fiii Di iniziare sotto i 12 anni Per avere un'altra Ma che c'è Ma che c'è Un'altra Ma che c'è Un'altra Ma che c'è Un'altra Ma che c'è Un'altra It's you, before it's too late. Cosa avevano gli snowboarder più impetuosi? La stessa cosa di quelli più impediti. La stefanescola, voglio vedere spinare! Va bene un po' di coccia. Puede spinare via, mutante, tutte le disegno. C'è il berizoma! È bellissimo! C'è gli autoreggenti! C'è il berzi! Da ierbolino! E la che caglio? Che barro, vedela in fondo? Ma di che cosa? Ascolto. Io ho bisogno di cose più profonde. La festa della perfidia! Cioè? Tiro, domani sera alle 23 su Italia 1. Un appuntamento Thompson. Scoprite questo nome. Ah!